Oggi vi presentiamo un oggetto davvero straordinario. Per la prima volta una macchina totalmente fatta in acciaio. Non ci sono viti, non ci sono pezzi di plastica, non si deve mai affilare, le lame sono seghettate e la novità sono questi sei coltelli per tagliare in velocità. Se vogliamo affettare a rondelle zucchine, patate e carote, guardate l'effetto. È una mitragliatrice, tutte fette uguali e tutte della stessa identica misura. Se volete invece fare un taglio a scaglie del parmigiano, delle zucchine, delle melanzane, che volete preparare degli involtini, guardate che meraviglia in un secondo appena se questo non è un taglio straordinario che con un coltello a mano libera non riusciremo mai a fare. Ma la macchina, che siano cose dure o che siano cose morbide, le carote, le zucchine e le patate, guardate, affetta sempre con la stessa identica semplicità. Ma la vera novità è che a differenza delle solide affettatrici non serve solamente per affettare. La laviamo in lavastoviglie o sotto il getto dell'acqua. Adesso in un secondo appena noi passeremo da tritare del cioccolato, affettare una cipolla, sbucciare un ananas, utilizzeremo e sporcheremo sempre questa lama. Guardate con quanta semplicità io vado a togliere la corteccia dell'ananas che tante volte è dura e fastidiosa e lo spreco è anche tanto. A un semplicissimo passaggio toglie la corteccia. Al secondo la pulisce completamente dai punti neri. noi mangeremo tutto l'alimento, lo spreco sarà davvero poco. Ma se nello stesso momento volete affettare una cipolla, magari se volete fare un soffritto, la frittata, la pizza, nell'insalata, guardate che meraviglia, senza toccare la cipolla con le dita, con le mani e senza toccare neanche le lame, quindi in assoluta sicurezza, in un secondo appena questo sarà il risultato straordinario che andremo ad ottenere. Ma se volete preparare dei dolci, tritare il cioccolato, che magari volete fare il tiramisù, latte e cacao per i bimbi, guardate con quanta semplicità anche il chocoblock, qui farebbe fatica anche un frullatore elettrico. Con la stessa identica semplicità io ho tritato anche quello che era il cioccolato.